Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille. Dietro le quinte. Yannick Sinner tra passione e intrighi d'amore. Il cuore del campione. Yannick Sinner, recentemente in luce per la sua vittoria su Djokovic, vive una vita sentimentale complessa. Dopo la fine della relazione con Maria Braccini, è emersa una nuova storia con Laura Marghezin, modella meranese. Fine di un amore. La relazione con Braccini è finita, forse a causa di una foto di coppia sui social, in contrasto con il desiderio di riservatezza di Sinner. Marghezin, nuova fiamma in crisi? La nuova relazione con Marghezin potrebbe già essere in crisi. Mentre Sinner affronta sfide importanti sul campo, Laura si trova negli Stati Uniti, alimentando voci di distanza nella coppia. Futuro incerto. Sinner cerca equilibrio tra il tennis, sua grande passione e la vita sentimentale. La sua storia con Marghezin sembra incerta, mentre il campione mantiene la sua consueta riservatezza.